Bentornati, allora solo pochi giorni fa ho fatto un video su che cosa significa essere stonati e oggi mi viene offerto, come dire, su un piatto neanche d'argento ma di platino l'opportunità di discutere meglio con voi della questione e soprattutto di approfondire alcuni aspetti relativi alla musica di oggi Allora, il protagonista, forse avete sentito, è Fedez che è stato ripreso poche ore fa, insomma ieri praticamente in una performance, vediamo questo video Allora, non c'è bisogno di avere diplomi in composizione o di essere i solisti di fama internazionale per rendersi conto che ovviamente Fedez qui era mostruosamente stonato Allora, che cosa è successo? Prima però di raccontarvelo, vorrei fare una premessa importante che non è un disclaimer ma è, come dire, una premessa metodologica anche basata sull'onestà intellettuale che io cerco, nei limiti del possibile, di mantenere sempre nei miei video Fedez non mi è granché simpatico come personaggio come persona non lo conosco, quindi ovviamente non mi permetto di giudicarlo però al netto il fatto di questa scarsa simpatia verso l'uomo pubblico devo dire A che, pur a fronte di una cultura abbastanza basica è un ragazzo molto intelligente e questo assolutamente gli va riconosciuto e B, devo dire, è uno che il suo lavoro lo sa fare e a me non spiace neanche come cantante, meglio, lo ridico e a me non spiacciono neanche diverse sue canzoni che io ho ascoltato, che io conosco quindi io, soprattutto a me era piaciuto moltissimo l'album che ha fatto con J-AX cioè secondo me l'album era molto uscito, io lo ascolto regolarmente quando io vi dico che sono musicalmente un nivoro non è che lo dico così per far vedere che sono un democratico del pentagramma che vuol bene a tutti e che accarezza i bambini non è questo, io veramente, a parte il jazz che, ammazzatemi, non mi piace io ascolto veramente di tutto e quindi conosco abbastanza bene non sono certo un grande fan ma conosco abbastanza bene la produzione di Fedez e Fedez è uno che in studio spacca come certi attori bucano lo schermo lui è uno che buca le casse ora potreste dirmi che in studio di registrazione siamo tutti dei fenomeni la cosa in parte è vera ma lui comunque, ripeto, è uno che il lavoro lo sa fare e che in giro ormai, insomma, non dall'altro ieri per cui, insomma, è comunque un signor professionista e sia chiaro che questo non è un video di sfottò nei confronti di Fedez non mi interessa poi sapete che il dissing non è assolutamente nel mio nel mio modo di essere e di concepire generalmente la mia vita e tantomeno la mia attività su YouTube però, ripeto, prendo spunto da questa cosa per parlarvi di un paio di altri aspetti della musica di oggi allora, cominciamo a dire che io trovo di una tristezza infinita il fare un concerto su base sì, adesso potreste dirmi che tanti rapper o trapper lo fanno da tanto tempo però, ripeto, io in esecuzione di qualcosa di live posso accettare che ci siano degli overdub cioè, insomma, delle basi aggiunte alla musica alla musica al vivo ma andare a fare un concerto su una base, insomma, visto e considerando quello che costano oggi i concerti considerando che comunque avrà avuto un cachet generoso e così via oltre ad essere un peccato mi sembra veramente la morte della musica però, insomma, al netto di questo allora, lui che cosa dice in questo video? lui dice al tecnico guarda, no, ferma, ferma, c'è un problema con i monitor per non dire che in realtà il problema vero è quello con autotune tra l'altro, tutti hanno fatto un video apposta alla fine di questo video troverete il link, se avete piacere, per vederlo allora, chiariamo questo discorso di monitor perché io, parlando con alcuni di voi, ho capito che non tutti hanno capito che cosa sono i monitor perché uno al monitor pensa al monitor video cioè allo schermo, diciamo anche il monitor del computer ecco, uno pensa al monitor a uno schermo come quello attraverso cui state vedendo adesso questo video no, cioè sì, ci sono anche quelli i monitor ma generalmente in musica, quando si parla di monitor si intendo dei diffusori acustici, delle casse detto in maniera molto grezza da cui ascoltare suono che cosa si ascolta dai monitor? si ascolta a se stessi cioè vi potrà sembrare strano ma se voi non siete mai stati su un palco soprattutto di un concerto rock o pop sul palco, non l'avete visto, sul palco sul palco ci siete voi qua e poi a fianco a voi ci sono due muri di casse che trasmettono la musica verso il pubblico allora voi, se non ci siete mai stati non potreste mai credere a questa cosa che vi sto dicendo io dal palco, dove il cantante suona e quindi con questi muri giganteschi di casse lui non sente niente di quello che canta e che suona diceva come è possibile? perché le casse sono rivolte verso il pubblico si sente un generico non si sente niente ecco perché da sempre insomma dagli anni 60 o giù di lì si sono utilizzati quelle punte che si chiamano i monitor i monitor sono quelle casse ve la dico veramente in maniera grezza che vedete davanti ai cantanti rivolte verso i cantanti lì c'è cosa c'è praticamente? c'è la propria voce, il proprio suonare quindi praticamente il cantante, il performer sente quello che sente il pubblico e lo sente bene proprio perché ripeto dalle enormi casse che riproducono la musica verso il pubblico non si sente assolutamente nulla e quindi insomma uno per sapere se è intonato se è intonato sia a tempo che non è a tempo serve ovviamente un monitor poi diciamo che da una quindicina di anni a questa parte non si usano più tanti monitor ma si usano gli ear monitor che vedete che tutti i cantanti quando fanno i concerti tutti, tutti, tutti hanno nelle orecchie questa specie di cuffie anche questo qua vi uso un termine assolutamente improprio ma per farvelo capire in maniera veloce vedete che tutti hanno queste cuffie in queste cuffie praticamente c'è quello che ci sarà bene in monitor ok? solo che appunto essendo nelle orecchie non essendo limitate allo spazio fisico il cantante si muove per andare dove vuole e sente comunque sempre molto bene la propria voce e praticamente sente quello che sta sentendo il pubblico in più lì i monitor hanno un altro vantaggio che la regia ti può parlare tu magari mentre sei lì la regia ti dice oh guarda che nel prossimo pezzo c'è questa cosa qui oppure ricordati che adesso devi fermarti perché c'è quella proiezione insomma la regia parla con l'artista e converse con l'artista cosa che sarebbe molto più complicato se dovesse uscire dal monitor quello ai piedi del del cantante questa cosa qui però indipendente dal fatto quindi che il problema fosse di 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 una scarso funzionamento di monitor e se fosse così sarebbe assolutamente comprensibile che uno canti male credetemi perché se non senti la tua voce hai serie difficoltà a essere intonato il problema invece era più un problema di di autotune che è saltato perché come tutti i software ma come tutte le cose del mondo forse sono fallibili ogni tanto fanno cilecca ma appunto non è se è quello non è quello il problema era di autotune va bene perché ormai questi cantanti senza autotune non sanno assolutamente cantare e ci ho fatto diversi video appositamente però io dico a a fedez ragazzo intelligente e a fedez non voglio dire cantante ma performer showman adesso sto attento a non usare troppi termini inglesi se no poi mi sgridano ma dico non c'è bisogno che ti diplomi in composizione o che fai chissà che cosa o in canto ma ma vuoi fare qualche cavolo di lezione con un con un insegnante di canto insomma che ti insegni non a cantare come Frank Sinatra ma a evitare queste figure perché poi oggi oggi è talmente basso il livello generale che certo questa non è una figurata cioè se questa cosa fosse successa 20 o 30 o 40 anni 50 anni fa sarebbe stata una figura da andarsi a nascondere e non farsi più vedere oggi figuratevi una cosa tra due giorni non se ne parlerà più però insomma secondo me artisticamente è una figuraccia cioè perché quello che non mi piace è il concetto non ripeto non è fedez che non ci interessa particolarmente in questo video è come dire la la parte propedeutica di una roba del genere la parte didattica di un episodio del genere perché passa il concetto che ha un ragazzino di 15 anni che vuol fare quello di lavoro che nella vita non c'è bisogno di sbattersi tanto non c'è bisogno di studiare tanto in fondo uno anche se non ha studiato anche se è bravo viene fuori comunque non c'è bisogno di studiare non c'è bisogno di impegnarsi e passa questo concetto che non solo è sbagliato ma è veramente dannoso socialmente dannoso perché viene così proprio a svanire l'importanza dell'impegno dello studio della preparazione dell'essere come dire preparato appunto scusate la ripetizione a fare quello che è il tuo lavoro dopodiché questi qua non possiamo neanche più definire i cantanti ok ripeto dobbiamo trovare un'altra definizione sono comunque uomini di spettacolo di spettacolo e signori uomini di spettacolo in particolare Fedez sia chiaro però un cantante nell'etimo il fatto che dovrebbe cantare un cantante che non sa cantare difficilmente lo possiamo definire cantante però mediamente andiamo sempre di più e questo è l'altro aspetto su cui volevo riflettere con voi stiamo andando sempre di più verso un mondo dello spettacolo della musica in particolare e parlo della musica pop nello specifico ma non solo veramente pieno di enfasi con degli effetti speciali con delle cose mirabolanti e sempre più povero di contenuti lo vediamo dal fatto che non c'è musica al vivo cioè che si canta su base lo vediamo dal fatto che i cantanti non sanno cantare lo vediamo da tanta approssimazione che c'è da parte di persone che dovrebbero essere professionisti del settore e lo vediamo da cose come la listening experience voi sapete cos'è la listening experience è questa esperienza d'ascolto trovate in italiano si chiama così non trattatemi male si chiama così perché l'hanno chiamato così che fanno alcuni cantanti tra cui Kenny West perché cosa fanno? loro si presentano sul palco di fronte a una marea infinita che ha pagato un biglietto molto salato il tecnico schiaccia play e quindi mentre una volta c'era che già ci faceva un po' ridere il discorso del playback cioè il cantante non cantava la via faceva e sotto c'era la musica adesso il passo è superiore ancora siamo andati oltre e chi l'ha pensato è un genio del male ma è anche un genio del marketing cosa fanno? il cantante il performer sta lì non fa niente se non ascoltare la propria canzone col proprio pubblico che ripeto per questa cosa ha pagato anche un biglietto piuttosto consistente per cui praticamente tu fan di quel cantante paghi un biglietto salato per ascoltare la musica che quel cantante ha registrato in sua illustrazione e non per sentirlo cantare dal vivo e lui è lì con te tra l'altro nel caso di Kanye West era fantastico perché aveva addirittura una maschera per cui probabilmente era lui ma se non fosse stato lui se fosse stato un figurante beh sarebbe stato veramente il colpo del secolo la rapina del secolo e quindi insomma questa è la listening experience questo è il mondo di oggi legato ai social legato alle sempre minori aspettative che il pubblico ha perché quando la qualità di quello che facciamo caro attenzione sapete che devo sempre stare attento a non fare il vecchio parruccone i miei tempi le cose no non è questo il discorso il discorso è che quando per tante ragioni poi potremo un giorno anche analizzarle in parte l'ho fatto in altri video però la qualità del prodotto musicale scende sempre di più scende sempre di più anche l'archiesta e l'attenzione e l'educazione del pubblico ora io lo so benissimo perché faccio questo cioè questo è il mio campo ok so benissimo come funziona oggi il live è l'unico o quantomeno il principale non l'unico però uno dei principali fonti di introito per un cantante pop perché i dischi non si vendono più perché con gli ascolti Spotify puoi offrire il caffè ai tuoi amici e basta e per cui chiaro è normale che oggi vediamo sentiamo prezzi il concerto degli Oasis a 300 400 euro il concerto di Taylor Swift a 200 euro 300 euro o dollari è lo stesso ci sta nella organizzazione di un elemento così complesso così costoso a un'organizzazione dietro paurosa e comunque di un vero proprio spettacolo comunque con grandi scene lui costumi vuocchi di artificio esplosioni tutto quello che vuoi ci sta anche e soprattutto considerando che questa è la principale fonte di introito per un cantante ci sta che il biglietto costi così caro però il problema non è questo il problema è che ripeto che facendo cose di livello sempre più basso intrinseco vorrei dire artistico ma devo stare attento a usare questo oggettivo poi anche il pubblico è subito a cose sempre più basse e lo spirito critico è sempre più basso questo è il danno della cosa cioè non che intendiamo che il pubblico che ascoltava le canzonette negli anni 60 fosse un pubblico di intellettuali e di geni della musica sia chiaro cioè la musica pop cioè popolare è destinata a un pubblico ampio mediamente di bocca buona ecco però anche nel pop anche nelle canzoni si può lavorare con un livello artistico alto un livello artistico medio basso o bassissimo ecco quindi dopo la mia impressione che stiamo andando verso un livello veramente molto 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 basso scrivete nei commenti cosa ne pensate se non siete ancora iscritti al canale vi incoraggio a farlo se avete piacere se no non fatelo se avete piacere abbonatevi al canale se no non avete piacere non fatelo e noi ci vediamo al prossimo video non mancate